Il sineco di Civita Alessandro Tocci ha chiesto di sequestro la riapertura delle gole del Raganello dove il 20 agosto del 2018 si verificò un'improvviso ondata di piena che provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti ed una guida. Siamo speranzosi, dice il primo cittadino nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Comunale, che presto possa tornare ad essere fruibile un bene identitario di Civita come le gole del Raganello. Siamo fiduciosi ancora, dice il primo cittadino, che possa essere rivista la decisione del sequestro del sito, assunta subito dopo la tragedia di 5 anni fa. Bisogna ricordare che in altri luoghi di Italia, per tragedie simili, sono state assunte decisioni differenze da quella riservata alle gole. Dunque il primo cittadino con la speranza che quanto prima le gole possano ritornare libere ed essere riconsegnate ai tanti turisti che vengono a Civica con l'intento di visitarle. È un momento particolare per il turismo e non solo nella nostra regione. E dunque le attrattive come quelle del Raganello rappresentano una vera e propria calamita per i tanti turisti che decidono di trascorrere le vacanze nella nostra regione.